E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video, video breaking news perché è arrivata una mail da poco, a molte persone me l'hanno segnalata, è arrivata anche a me da parte di FTX EU Support per andare a definire quello che ha un potenziale withdraw. Sembrerebbe che la situazione si stia sbloccando, in questa mail vi dico fate le vostre ricerche però ho controllato, viene da supportchiacciola ftxeurope.eu, è un dominio appunto legato a FTX Europe sembrerebbe, io ho provato a fare il login poi vi dirò com'è andata, però praticamente vanno a dare una definizione di quella che è stata appunto il chapter 11 legato al fallimento di FTX e appunto le operazioni che vengono eseguite per la parte europea che è comunque supervisionata ripetono dalla SISEC ed è sotto MIFI 2, MIFI 2 che già sapevamo essere una protezione comunque per gli investitori a livello bancario. E sembrerebbe appunto che tutti i fondi fiat siano comunque segregati all'interno di banche che possano essere insomma pronti per essere rilasciati ai rispettivi proprietari. Parlano anche delle posizioni che avevano sull'exchange fino al 12 di novembre che sono state chiuse in euro per andare a preservare quelle che erano le posizioni e dai rischi di mercato chiaramente se uno aveva un'operazione derivati aperta è stata chiusa e di controllare il proprio balance e fare questa procedura che è andare su questo sito ftxeuro.eu, fare login con le credenziali di FTX, verificare l'account, controllare il balance in euro e fare di nuovo che è sì e completare il claim e poi ci vorrà un po' di tempo, sembrerebbe entro appunto il mese di aprile il completamento di questa operazione per poi andare a eseguire i rilasci di euro. Il sito è questo, in realtà sembrerebbe tutto ok, vi invito comunque sia prima di fare qualsiasi cosa di fare le proprie ricerche, io ho provato a fare login con l'account, vi dico per test comunque lo devo provare e ha funzionato, mi ha mostrato il saldo corretto, quindi hanno le informazioni, sembrerebbe comunque tutto ok, sotto riportano i dati di FTX proprio con la licenza, ho controllato, dovrebbe essere quella appunto con la quale hanno operato, avete tutti i dati, sembrerebbe comunque corretto tutto, ripeto è un video breaking, fate le vostre ricerche, appunto questa mail sta arrivando, in ogni caso sembrerebbe appunto un claim per la parte euro, giusto da appunto informazione, controllate bene anche voi, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, però se così è insomma e si sta sbloccando la situazione, vista la MIFI 2 di cui avevamo già parlato, sicuramente è un'ottima cosa per tutti quanti. Detto questo vi ringrazio e vi auguro a tutti una buona serata, ciao ragazzi!